Quando ero giovane mi piaceva scherzare con i miei amici. Io li sfottevo, loro non mi sfottevano. Era divertente. Ora non ho più amici. E questo è molto desolante, è lugubre. La colpa di questa situazione si è creata per il fatto che mi sono allontanato un po' dalla vita sociale. Lavorativa, affettiva, amorosa ed economica del mio paese. Adesso vorrei rimediare. Non so come però. Qualche volta quando vado in giro viene voglia di fermarmi. Ma non argomenti. In fondo io non conosco la vita. E le sue varie sfaccettature. E le sue varie sfaccettature. Grazie.